È il megalodonte più grande che io abbia mai visto. Il Meg più grande che chiunque abbia mai visto. È il superpredatore. Via, via, via! È una cosa mai vista. Cacciano in branco. Rilassiamoci. Questo posto è a prova di megalodonte. Ma pensavo anche... Shark 2. L'abisso. Dal 3 agosto al cinema. sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chi sia laggiù cerca di farsi strada verso la superficie. È stata una pessima idea. Giusto un pochino. Jonas, abbiamo compagnia. È il megalodonte più grande che io abbia mai visto. Il megalodonte più grande che chiunque abbia mai visto. È il superpredatore. Andate tutti alla stazione! Possete farcela! Continuate! Tre megalodonti e chissà cos'altro sono usciti dalla breccia. Spero che vada meglio dell'altra volta. Perché? Cos'è successo? È meglio se non lo sai. Via, via, via! È una cosa mai vista. Cacciano in branco. Rilassiamoci. Questo posto è a prova di megalodonte. Sai, Jonas ha sempre temuto questo, ma pensavo... Signore! Senti! Ha ha! I bet you're gonna embrace me You have me down, 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 down on my knees Ooh, Barracuda! You have me down, down on my knees